Siamo qui a Offprint Paris 2012 al banchetto del Sunisio Publishing House. Abbiamo fatto il terzo giorno di quattro. Oggi abbiamo avuto due lezioni, una serie delle lezioni che hanno presentato la piccola saletta con l'emiciclo. Uno che parlava del Blind Spectator, uno che parlava di un libro, è stato fatto da Alberto Di Michele su un suo papà, che è un criminale che in qualche modo è stato arrestato e racconta la storia, un ritratto, un figlio che racconta il suo padre tramite i verbali e le intercitazioni che sono state fatte dalla polizia nel corso di due anni. L'altra lezione è su Blind Spectator, cioè come siamo incapaci di guardare veramente, nel senso che la gente arriva, guarda, sfoglia, ma non si concentra, non ha questa attention span, non ha questo tipo di concentrazione. Troppa roba da vedere, siamo in questa cultura del visual, delle immagini, che non ci dà la possibilità di concentrarci su una cosa sola. Questa è la difficoltà di Offprint Paris, questa è la difficoltà di tanti eventi fatti in questa maniera, e però piano piano, cercando di trovare un modo di immaginarci cose diverse, libri diversi, provocazioni che possano, non attirare l'attenzione, ma aprire un po' gli occhi su certi elementi, che non mi 피uga, il centro del viso in questa maniera, ma a poco con le passi e la fede, perché non si nasce un po' gli occhi sui e gli occhi suoi divilici. La fede, la fede, la fede, la fede, la fede, la fede, la fede,